oi lo sai che oggi sono stato a napoli non me l'ho fatto proprio a veramente mi fa molto piacere sono uscito con una ragazza mamma mia come sta facendo chissà ma chi ti chiamano luogo muc di piquin veramente come si chiama si chiama alessandra si chiama ma bu sicuramente nata c'è essa un bel nome ben nome lo sai siamo usciti ci siamo baciati e abbiamo fatto tante cose insieme non me ne ho fatto proprio mi fa piacere ci è stato contatto mi fa piacere mi fa piacere io penso che ci sposeremo non me ne ho fatto proprio mi fa piacere mi fa piacere penso che avremo tanti bambini non me ne ho fatto proprio avremo una casa grado non me ne ho fatto proprio me ne ho fatto me ne ho fatto proprio fate cazzo tu